Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, stiamo continuando una road incredibile, una scalata Siamo nel video delle 99.800 coppe, ovviamente nelle schede vi lascio quello prima, ovvero le 99.700 Io spero che questo viaggio insieme a me vi piaccia, anche perché vorrei rendere partecipi voi di YouTube perché su Twitch l'avranno visto tutto un tempo reale e praticamente insomma se lo saranno con tutti quasi a pieno giustamente voi di YouTube poi che dite? E noi? Che facciamo? Non lo vediamo? Allora sia per ricordo mio che per farvelo vedere a voi ci facciamo le ultime 500 coppe tutti insieme Siamo su Foot, siamo sempre con Ivo, Pandi, sapete ormai sono quelli, Ivo, Pandi, Raffa Ogni tanto forse nel video è apparso anche Gameru, non mi ricordo, vabbè comunque siamo sempre i soliti Allora Nita Già questi, più che altro c'hanno Buzz che sicuro c'ha la visione, perciò ci vedono Eh sì, la Nita mi ha visto Oh no, sì, 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 infatti mi ha visto Ok Buono, buono Tripla ragazzi, però erano tutti vicini e un paio di one shot perciò non conta fino a un certo punto Oltretutto ha segnato Pandi, non so come sia possibile Mi è passato accanto Il Foot ragazzi è diventata una sofferenza unica comunque Con tutto il bene ma Forza, forza, forza Oh no, 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 no No, 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 no Ok, era preso. Vai! Bello! Uh, un'altra Jackie! Eh, però minchia, con Nita surge. Allora, Nita è di là. Cioè io c'ho... Tornato indietro da questo. Questo non gli calava la vita, insomma. Ivo almeno è rimasto su, almeno quello. No, il secondo colpo non era mai preso. Vai! Ha ciuffato. Però Nita c'ha l'orso. Chi mi sa a questo punto tirerà dalla mia parte. Immagino. E invece no. Punta tutto a destra. Punta tutto a destra perché giustamente dall'altra parte è passato il trattore. Beh, fate voi. No, c'è anche surge, è entrato insieme all'orso. No, fa 106 di vita. Non ho capito quei due di là come hanno fatto a sopravvivere, ma faremo finta che vada bene. Ma sono tutti due lì. No, mi ha preso il primo colpo. Oddio. Bello. 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 Ho sbagliato leggermente il tempismo perché giustamente Jackie era invulnerabile. però non portati via due. Allora, ci mancano cos'è? Uno o due game per le 99.800. Sempre più vicini all'obiettivo. Oh. No, non penso che prendere palla qua sia fattibile. Ho capito però, eh. Oh, Ivo si è salvato. Attenzione. 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 Il passaggio. Il filtrante. Oh. La kill è regalata. Questa doveva averci il jump. Recuperiamo un attimo. Il ghello ci ricasca, eh? Aspetta che questo vuole essere acciuffato un'altra volta. Vieni qua a te. Godo. 99.798. Attenzione. Momento di lasciare like, di iscriversi e di usare il codice perdi. Se no, qua le 100k non si fanno. E vabbè, oh. L'artiglieria pesante queste hanno sfoderato. Buds, Bull. Concentrati perché ragazzi, Bull è quel brawler sottovalutato che intanto con l'hypercharge ti rompe il culo. Buds, oltretutto, gli dà la possibilità di avere la visione. Perciò loro mi vedono. Mi prego. Vai, Ivo. Bellissimo. Ok, se riusciamo a fare tutto prima dell'hyper di Bull, tanta roba. Però bisogna essere bravi. Eh, esattamente. Proprio di questo. Avevo paura. Ragazzi, Bull ha un bel dito. No, che gol mi ha fatto? Eh, questo c'ha l'hyper, raga. Occhio. Sono tutte e due one shot. Più o meno one shot. Eh. Questo mi ha visto. bellissimo. Sono qua davanti. Eh. Bello. 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 Fandi la presa. E allora. 99.800 fatte. E si gode. Mi sa che vi ci metto una partita, una clipettina extra della partita dopo. sperando di vincerla. Sennò magicamente il video terminerà qua. Vediamo di giocarci il tutto. Il tutto per tutto. Vediamo un po'. Allora. Derry lì. Oh. 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 Oh, oh. Ok. Ok. Uh. Bellissimo. Questo potrebbe essere anche un gol incredibile. No. La palla spero la prendano loro. Bravissimo. E ragazzi Pandi la chiude. Faccio ancora una volta like, iscrizione. Ovvio. E io ragazzi vi aspetto al prossimo video. Averti il conto alla rovescia con Tiva.